Ciao a tutti ragazzi e ben finalmente ritrovati su... non sono riuscito nemmeno a formulare la frase d'inizio ma vi rendete conto di quanto sono fuso? Stavo dicendo, ben ritrovati su Clash Royale e ho trovato i Barbary Elite, ma non è una novità dato che è una carta comune però sono dei barbari leggermente dopati con un elmo alla Skyrim in testa e... fanno un po' schifetto, contando che sono fuori in due e costano 6 di lisier a livello 4 sono forti come i Barbary al... un secondo... all'8 all'8, ma dato che io non ho carte e 100 gemme non ne voglio buttare ho formulato una specie di deck, non è scientificamente provato però andiamo subito a provarla oh, ah si già, sono arrivato in Arena 8 dopo tantissimo tempo oh cavolo delle carte, no queste carte non mi piacciono, ok buttate Minatore e dopo Barbary Elite, pensavo fossero più veloci me li ricordavo, cavolo beh, ce li hai anche te maledetto eh, uno sopravvissuto, uno sopravvissuto sono riuscito a fargli 600 di danno più o meno bene o male, se non avete Minatore usate il Barile Goblin se non avete il Barile Goblin, mi dispiace non so cosa fare se no, usate il Cimitero no, 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 dimenticate quello che ho detto, non usate il Cimitero o almeno, no, un altro con la, no, un altro con la scintilla ma io come faccio, ma io come faccio con la scintilla oh, sarà la quinta persona di file che mi trovo con la scintilla ecco, così non so se riesco a trollarlo, ma forse così tanto butta via, butta via le robe due volte quindi, eeeh, è morto eh, eh, esatto ma la scintilla, la scintilla deve essere depotenziata all'istante è troppo forte non c'è un deck, non c'è un singolo deck che io abbia che sono, ma sparate la scintilla, madonna sì, vabbè, posso far schifo finché voglio però se mettete la scintilla se mettete gli aceri che sparano al Minatore e non la scintilla che andano avanti chi è l'efficiente da questo punto? avete capito? e mi sta trollando, però se io l'avevo detto che non era scientificamente provato ma, leggermente sono riuscito a fare meno schifo del solito con i Barbarelli però sono difficili da usare anche per colpa del deck e del costo che costano una marea che così riesce a tenerla tenerla, ok eeeh, vabbè, ma si mettono in mezzo anche quelli cosa butto qui? vabbè, non sono neanche tutto non sono neanche tutto questo pericoloso quindi possono che lasciarli andare eccolo ebbè, ce l'ho anch'io, eh ce l'ho anch'io l'orda di scheletri fate avanti e portalo avanti portalo avanti portalo avanti che sono andato ora inferno esatto ecco qua ecco qua bene bene non spaccarti ora non spaccarti infame basta spero basta? wow cosa ho fatto? ho messo il contrario ho fatto il contrario no, mi sono confusissimo mi sono confus- io non posso giocare in queste condizioni vabbè abbiamo perso però abbiamo ho posto no, una resistenza un cavolo perchè 1600 di vita ancora dove vai? dove vuoi andare? spero di non essere retrocesso o si dimmi di no sono retrocesso che schifo ho portato una micri una piccolissima modifica ossia al posto della valchiera ho messo il domatore che non mi ha mai deluso prima d'ora vediamo adesso se funziona spero proprio di si perchè io i barbara elite li sto già mal sopportando come il cimitero cosa è successo l'unica volta che l'ho usato? l'avete visto 1 e minatore barbari di solito funziona o almeno quando lo faccio e ovviamente mi mette i barbari ancora più cazzuti dei miei e me li fotte si vabbè anche perchè se li ho al 4 mettere i barbari elite al 4 come andare in guerra con un coltellino di plastica e si a livello 4 hanno le spade di plastica i barbari elite mentre i barbari normali al 9 hanno le spade di di platino non mi veniva un un materiale quindi plati eccolo voleva che mettevo un'orda maggiore e gli metto i spiritelli così li vanno addosso e gli fanno male li hanno fatto male eh cavolo si li hanno fatto male proviamo di nuovo si non li ha fatto malissimo i barbari anche perchè non ci sono neanche arrivati quindi quindi ecco qua il motivo principale invece invece costa costa però metterei domatore e barbari ma restiamo molto scoperti dall'altra parte e sempre sempre gli stessi potuti barbari più forti dei miei barbari io cosa uso adesso aia cosa faccio uno e due vedo la principessa la vedo la vedo e sta rompendo le scatole oh ecco qua però 1200 1200 perchè il visire non si carica più in fretta non ce la fa non va non va è irritante ma va lì sopra sotterralo oh almeno almeno 23 di vita lasciami grazie ha avuto pietà non ha usato mi sa che non ce l'ha nemmeno non ha nemmeno una scarica o una roba simile proviamo la classica tattica è però come contro barbari scommetto questo si che è scientificamente provato ora cosa è no vai 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 ok distruggi quei barbari che non sono nulla in confronto ai miei eh si fa ammazzare uno due quello da dove ho uscito oh gli aceri giusto 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 pensavo di essere scoperto nel fronte nel fronte aereo beh non ho tutti i torti sono scoperto lo stesso ma pensavo di essere ancora meno scoperto ma cavolo se ne eri tante ancora i barbari basta io me li sogno di notte livello 8 barbari come si chiama wassem i barbari di wassem livello 8 mi tormenteranno per il resto della mia vita su clash royal e ridi ridi rido anch'io adesso ho perso tipo 100 coppie in due minuti io rido però ne ho perso quasi 100 e proviamo proviamo il mago stavolta al posto del del domatore cioè mi sembra il domatore della vacchiere mi sembra quelli la menori davanti quindi metto quelli invece barbari mago può darsi non è una cattiva idea se mettono i barbari vediamo uno c'è qualcuno che si sta guardando però madonna se si carica lento si carica lentissimo e i barbari non sono serviti a nulla neanche stavolta chissà perché comincio veramente a pensare che passano schifo che non è possibile che su quante ne ho fatte in realtà ne avrei fatte quattro perché una è andata una è andata persa nella registrazione ve lo dico già adesso e su tutte le quattro le ho perse anzino una l'ho pareggiata ma l'ho pareggiata perché a lui è rimasto due di vita quindi teoricamente è una vittoria mia solo che la teoria non serve a nulla chi è che si sta guardando butta un po' di coriandoli si può si può anche gli aceri non scherzano con la lentezza qua sono tutti lenti tra i suoi guarda il gigante il gigante è il più veloce degli aceri che modo io cosa devo fare contro questi devo vincere allora si che sono problemi e il tronco il tronco potevo usare anzi no ecco qualcosa servono i barbari vediamo beh più o meno più o meno vanno è come usare non so solo un cestino un cestino servono ma solo per le schifezze una filosofia che non sarei mai riuscito a inventare e butta un po' di coriandoli tu che guardi si può dai supportami non gli ho tolto niente di vita fino a poco fa forse è meglio terminare le disfatte o meno che io non faccio una rimonta incredibile dove vuoi andare te stai vendendo la mia torre è sì un tronco contro la torre lo sposta lo sposta però mettiamo il cavolo c'è un raggio con la principessa avanti barbari rendetevi utili forse in difesa sono utili ah no c'è la principessa allora no come non detto ritiro tutto 1 mago perché l'ho messo lì in mago eeeh perso no no sì perso non avevo visto l'altra torre sì o perdo qui o perdo per dopo non è che cambia tanto perché 720 di vita mi rimane dai dai sì però 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 c'è quella c'è un minatore un mio amico minatore che si è rivoltato e ha detto no tu non puoi più non puoi più vincere quando registri gli ho fatto un po' di danno dovrei essere contento in teoria lo sono perché gli ho fatto un minimo e basta questo minatore che spamma oh oh quanto è lunga quella palla che ci arriva anche oltre un barbaro oh bastone pala allungati uh goku chi bastone allungati di sto cavolo io ho la palla magica da 1330 sono passato a 1159 tutto grazie a questi grazie io sapevo già che facevano schifo però ho detto no dai ma se vedi che se fai un deck fatto bene riesci a riesci anche a eh può essere trovato dall'arena 8 io prima vedevo tutto adesso sono tornato tra i poveri beh a me non sono in arena 5 o arena 6 o arena aspetta in che arena hai mister ah ok mi sento mi sento molto meglio adesso mi sento molto meglio adesso che so che mister è in arena 6 io sono in arena 7 ma credo che tornerò presto in arena 8 ok ragazzi questa è la mia recensione su questi cosi almeno allora sono sicuro una cosa è certa al livello 4 in arena dov'è che si può trovare non mi ricordo in arena a livello 4 in arena 7 e 8 fanno cagare cagare ma in una maniera che se metti fammi pensare fammi pensare fammi pensare è come se allora sparare sparare la palla di fuoco sulla tua stessa torre è più utile dei barbari elite a livello 4 va bene l'unica roba perché li ho usati è che l'elmo di skyrim a meno mi ha dato un po' di speranze ma vedi che sti qua sono fortissimi eh no no sono solo più veloci a cuore e poi attaccano con la stessa lentezza dei barbari normali do consiglio non usateli non usateli per il vostro bene e per il bene delle vostre coppe detto questo spero che continuerete a seguire i miei video i nostri video scusate perché ormai mi sono anche dimenticato che mi stareà da problemi a casa e quindi non può fare video si ho fatto il monopoglio ho fatto un monopoglio mio adesso non so più chi sia lui eh detto questo spero che continuerete a seguire i nostri video e mi ha fatto piacere che siete arrivati fino a questo punto del video vi ringrazio ciao a tutti